primo maggio 1994 muore a bologna ayrton senna nato da una famiglia benestante comincia a gareggiare con i kart dopo una gavetta nelle serie minori nel 1984 senna ha proda in formula 1 disputando proprio il gran premio del brasile negli anni senna corre per varie scuderie ma il suo nome è legato soprattutto alla meclaren è campione del mondo nel 1988 1990 e 1991 e all'inseguimento del suo quarto titolo mondiale quando nel gran premio di san marino è vittima di un incidente mortale